Un ritorno in nazionale, una nazionale diversa rispetto all'atletica e all'uscita in fondo che erano le mie discipline di prima ma un bellissimo ritorno, mi sto divertendo molto e ho molta energia da dare in questa nuova disciplina Sto partendo infatti in questi giorni per la maratona di Boston che sarà lunedì prossimo Mi sono allenata bene in questi giorni e ci ho dato dentro nelle salite, nelle discese, ho avuto ottimi consigli speriamo di migliorare sempre più e di Boston far vedere quello che ho imparato in questi giorni